Nuovo appuntamento con l'ospite, benvenuti, questa settimana parliamo di sport e politica. Due temi apparentemente lontani e distanti tra di loro, non è così a Sciacca perché il presidente della locale squadra di calcio, l'Unitas Sciacca e Gioacchino Settecasi che è anche un ex consigliere, ex assessore, ma soprattutto è già in campagna elettorale perché la lista Sciacca 2022, della quale fa parte, sostiene la candidatura a sindaco di Ignazio Messina. Partiamo dal sport, partiamo dalle cose più frivole, più leggere, apparentemente più leggere, perché immagino che comunque avere la responsabilità di una squadra di calcio non sia cosa da poco. Io all'inizio, quando ho iniziato questa esperienza, l'avevo iniziato come semplice dirigente dello Sciacca. Quando mi è stato proposto di fare il presidente, ormai sono passati due anni, ho accettato anche se fondamentalmente non era il mio mondo, però mi hanno coinvolto in tutto questo e quindi ho accettato ben volentieri. Una delle prime cose che ho detto dopo qualche mese è stata che questa esperienza è forse più complicata di quella di assessore, anche perché avevo fatto l'assessore poco tempo prima. Questo proprio per far capire che sì, è molto difficile, è difficile perché comunque si parte al settore giovanile, c'è uno staff tecnico, c'è una prima squadra, ci sono dei soci, poi la nostra società è molto grande, noi siamo circa 25 dirigenti, quindi è una società abbastanza ampia e tutti i problemi poi annessi che ci sono. Ci sono le ambizioni di una città che da sempre ha amato lo sport e il calcio in particolare e da conciliare poi con far quadrare i bilanci sempre più ridotti all'osso. Immagino che la questione economica sia quella fondamentale nel calcio delle piccole realtà periferiche come delle grandi società del resto. Noi abbiamo la fortuna, era ancora maggiore nel periodo prima del Covid, devo dire che il nostro pubblico è stato sempre un pubblico molto presente, credo senza, ma lo dico anche con grande sicurezza, il più grosso pubblico da tutta la provincia di Agrigento, se non anche della Sicilia occidentale, escluso poi Palermo, dico che gioca in altre categorie. I numeri che si fanno a sciacca difficilmente li troviamo in queste categorie e questo è una cosa bellissima perché alla fine poi contribuiscono anche loro a quello che è l'aspetto economico di una squadra del genere che ha moltissimi costi e sono dei costi elevati. Poi noi dirigenti ci autotassiamo, dico per quello che può servire per il bene della squadra stessa e devo dire che quest'anno, e mi va di ringraziarli e colgo questa occasione, i moltissimi sponsor. Noi quest'anno abbiamo avuto credo più di 60 sponsor, quindi una cosa mai successa prima. Questo fa capire veramente quando la città, assieme alle attività commerciali, assieme al pubblico, siano vicine a questa società e a questa squadra. Questo a noi fa molto piacere e quindi colgo l'occasione e cogliamo tutti l'occasione per ringraziarli. La squadra di calcio locale ha sempre avuto un percorso altalenante, anni di grande passione, di grande entusiasmo. Abbiamo sfiorato, mi pare, la serie. C'erano pronti a vincere a cambiare la serie. Ecco, e poi c'è stato un po' gli anni della sofferenza, poi di nuovo il progetto di rinascita. È fisiologico tutto questo, come dicevo io, nelle piccole realtà, considerato che anche il Palermo, come il Catania, come il Trapani, poi hanno avuto anche loro problemi non di poco? È fisiologico perché queste piccole realtà, come abbiamo detto poc'anzi, alla fine vivono di sponsor e di pubblico e dei soldi dei dirigenti. Noi abbiamo la fortuna, e questo veramente dobbiamo ringraziare chi ha fondato questa società, che essendo moltissimi soci, nessuno di noi, diciamo, alla fine esce una somma che è spropositata, ma mette quello che può mettere con la massima serenità. Quando c'è un solo presidente che mette soldi, in quel caso si rischia quello che noi abbiamo detto poco fa. Quindi sì, queste fasi capitano… Quali sono i costi di un campionato, quello in cui milita l'Unitas Sciacca? Un campionato del genere di base non scende sotto i 150 mila euro annui, per una salvezza tranquilla fondamentalmente come l'abbiamo raggiunta noi. Se si vuole vincere un campionato del genere le cifre sono completamente diverse, perché comunque le spese, ripeto, ci sono, ci sono i trasferti, ci sono i calciatori che comunque la maggior parte di loro sono professionisti, fanno questo nella vita ed è il loro lavoro. Quindi alla fine questa è la reale situazione. Se uno vuole ambire, ed è questo che noi stiamo cercando di fare, anche col tempo, perché non si deve per forza arrivare al risultato per poi, invece, ritornare indietro ed eliminare completamente il cacciasciacca. Noi piano piano vogliamo infatti crescere e arrivare ad un punto e portare lo sciacca nei posti che merita. Credo che la Serie D ce la meritiamo, quindi piano piano cercheremo di portare… Non è il caso di quest'anno, fregiamo ogni entusiasmo. Quest'anno, tra l'altro, è l'anno dopo due di Covid, di stop, di problemi seri. Questa società parte quattro anni fa e vince il campionato di prima categoria, tre anni fa vince il campionato di promozione, l'anno scorso eravamo in eccellenza dopo, credo, 18 anni, non vorrei adesso sbagliarmi, c'è stato il Covid e poi ci siamo fermati, quindi alla fine questo è il primo reale campionato di eccellenza che noi facciamo. abbiamo fatto un ottimo campionato per essere una squadra, si può dire, neopromossa, perché ripeto, l'anno scorso alla fine non c'è stato campionato, abbiamo fatto un campionato veramente bello, ci siamo salvati parecchie giornate già fa, abbiamo toccato, quasi eravamo ai play-off, però alla fine va bene così, adesso già siamo al lavoro per il prossimo anno. Senta, la Lega, che tipo di trattamento, chiamiamolo così, riserva a questi campionati minori, indubbiamente? Non è un po' tutto concentrato, non solo la Lega, ma anche gli sponsor, poi tutti i diritti, è tutto concentrato in fondo sulla Serie A, in parte sulla Serie B e poi più nulla. Mentre dove voglio arrivare, che poi alla fine è anche da queste squadre che nascono i giocatori, che vengono coltivati, vengono fatti crescere, il famoso vivaio di cui ci si lamenta. Infatti, ma noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, arriva la Lega, il campionato di Uniorres l'abbiamo vinto proprio una settimana fa, quindi siamo campioni provinciali di Uniorres e questa è una cosa bellissima da tempo che a Sciacca non succedeva e nello stesso tempo abbiamo cercato di aumentare quelle che sono poi le altre categorie giovanili come le allieve giovanissime, questo perché? Perché intanto noi come società vogliamo che i giovani vengono allo stadio, facciano sport, che poi è la cosa che conta di più in assoluto per i nostri figli, ma nello stesso tempo poi servono pure per la prima squadra, perché li valorizzi e vanno avanti. La Lega, noi in questa categoria abbiamo la Lega Nazionale di Lettanti, già essere in eccellenza è la seconda categoria, che c'è Serie D è l'eccellenza, però sì, certamente è distante comunque da queste categorie ed è distante da molte società e parliamo sempre di una piazza come Sciacca, io credo che è una piazza importante, comunque quando arriva lo Sciacca Calcio, anche per la sua storia passata, è una piazza abbastanza importante, la riconosce sia la Lega ma anche le altre società. Certamente non siamo una squadra che arriva ieri, seppur alti e bassi che questa squadra ha avuto, però è sempre una squadra che ha militato. Senza, ma c'è ancora la questione delle discussioni tra società, tra giocatori, mi riferisco poi all'episodio, ora accendremo ben più serio e brutto che ha interessato il vostro allenatore, però si vive ancora quell'atmosfera da derby Sciacca Ribera per intenderci degli anni in cui ero ragazza, quell'agonismo, anche quegli episodi non proprio sportivi, chiamiamolo così. Allora, Sciacca non c'è mai stato un episodio… Noi abbiamo sempre accolto bene. Tutti, anzi, quando se ne vanno noi vediamo… E però come veniamo ricambiati? No, devo dire che veniamo ricambiati anche abbastanza… molto bene, in questo senso anche noi. Il problema è diverso, a volte le cose capitano, lo vediamo dalla serie A fino alla terza categoria, ma per fortuna poi ci sono le leggi, le regole, di cui ognuno ne pagherà e ne paga le conseguenze. Però Sciacca è su questo una città molto… una città, ma anche lo stadio è un posto molto sicuro, noi non abbiamo avuto mai nessun tipo di problema, ci sono medie di bambini che vengono a vedersi la partita ed è quello che noi come società poi vogliamo e che io ho sempre detto nelle mie interviste, a noi interessa portare bambini allo stadio per prestarsi il pomeriggio e quella giornata di festa, quindi finché riusciamo a fare questo credo che tutti noi continueremo ad impegnarci, quando questo non ci sarà più concesso, toglieremo il disturbo perché finisce il calcio senza il nostro pubblico. Faccevo riferimento a quell'episodio che ha interessato l'allenatore Crivello, c'è stata una ferma presa di posizione da parte della società, come era giusto che fosse? Era il minimo che potevamo fare, qualunque cosa poteva in qualche modo essere accaduta, non si arrivano mai alle mani ed è un gesto che andava immediatamente colpevolizzato e noi abbiamo preso subito le distanze da questa cosa, anche perché puoi vedere il mister riuscito con me dall'ospedale la sera alle 9 con due punti in testa, non è stata certamente una cosa carina, però ripeto, succede anche questo, bene o male anche la società alla fine del Mazzara c'è che so scusa, poi ci sono alcune indagini a quanto pare in corso, faranno i dovuti accertamenti. A noi dispiace perché poi quel giorno oltretutto, dicevo anche io quando ho fatto l'intervista, c'era moltissima gente di Sciacca, perché comunque Sciacca-Mazzara non è mai stata una partita invece come poteva essere Sciacca-Ribera, no? Una partita che c'erano due squadre molto tranquille, diciamo che si sono sempre stimate, molte di noi avevano le famiglie, io avevo portato mio figlio un anno e mezzo lì, quindi nessuno di noi si aspettava di trovare o che quantomeno potesse succedere qualcosa del genere, come credo non se lo aspettasse nemmeno il Mazzara stesso, però questo è anche il calcio, ci va messo nei piedi da sopra e si va avanti. Senta, a proposito di allenatori, Crivello ha sostituito mister Gerardi, queste dimissioni sono rimaste un po' così, a volte nel mistero? Sì, diciamo che noi come società quando un mistero si dimette possiamo farci ben poco, noi che possiamo andare a recuperare fino a un certo punto, nel senso che se uno viene esonerato in discorso ci assumiamo la nostra responsabilità, in quel caso è stato lui a dare dimissioni per una serie di motivazioni che lui stesso poi ha spiegato anche facendo un comunicato stampa, noi siamo andati avanti perché alla fine di quella squadra… Senti, in politica come nello sport alla fine le divergenze sorgono, nascono, le strade si separano, è la stessa cosa… Dove si mettono più di due teste forse si inizia a fare politica e quindi a esserci divergenze ci sta, ma io ho sempre detto che Gerardi è un professionista, gli auguriamo il meglio, lui dall'anno scorso che allenava lo sciacca, che poi è nato sotto la mia presidenza, quindi figuriamoci se io stesso non sono dispiaciuto per quello che è accaduto, anche perché so che persona è e quanto ci teneva poi e che lavoro faceva, però quando alle volte le strade magari non devono continuare, ognuno si assume le proprie responsabilità, però noi dovevamo andare avanti, portare la squadra oltretutto al punto che ce l'avamo prefissati all'inizio della stagione, che era quello della salvezza, devo dire che Crivello ha fatto, quando si prende la squadra poi ha fatto un buon lavoro, infatti ci siamo salvati parecchie giornate fa. Lei poco fa diceva lo stadio, il nostro stadio è sicuro, uno stadio che ci siamo conquistati proprio recentemente, perché uno dei problemi è stato proprio quello della impossibilità di avere il pubblico, insomma di poter poi sostenere la squadra, perché una squadra che gioca senza pubblico è impossibile. Mi ricordo che all'epoca ero assessore, quando la squadra poi nasce l'Unitas Sciacca, noi c'eravamo appena insiedati da qualche mese e hanno fatto loro questa richiesta, giustamente perché come hai detto bene tu, senza il pubblico non aveva nemmeno senso per chi aveva fatto questa società comunque andare avanti. Devo dire che all'epoca ce l'abbiamo messa tutti, ci siamo riusciti, quindi se lo stadio oggi è aperto, con tutte le dovute garanzie che ci possono essere all'interno di uno stadio, questo è stato un bellissimo risultato per tutta la città, anche perché era senza pubblico, qualunque squadra, dico anche prima di questa società e qualunque società che c'era, da moltissimi anni Sciacca non aveva più il pubblico dentro lo stadio che da una decina d'anni. Il problema qual è stato? Quello dell'adeguamento di questo stadio a tutta una serie di normative che poi nel frattempo sono diventate sempre più stringenti? Lì entra la parte del tecnico, diciamo che ci sono state nel sosseguirsi alle anni svariate normative sotto il profilo della sicurezza, ma anche lo stadio mancava anche di alcune, proprio non so, la prova sismica fatta sulle gatinate che poi è stata fatta, quindi comunque portare uno stadio datato nel tempo e adeguarlo con le nuove normative, diciamo che si è fatto un grande lavoro, ma si è fatto veramente per tutta la città e per portare il pubblico allo stadio, che come abbiamo detto è sempre numeroso, magari in questo periodo dopo il Covid la gente ha un po' di più paura, ma... Ma adesso la capienza è tornata al 100%, tra l'altro all'aperto, senta che tipo di interventi invece ancora andrebbero effettuati? Lo ha ricordato bene lei, è uno stadio datato, abbiamo avuto i problemi nel tempo anche del manto erboso, insomma... Allora, intanto credo che ci sia un... Questo è uno stadio comunale... Comunale, noi abbiamo solo la gestione del manto erboso e abbiamo affidati per alcune stanze all'interno dello stadio, sì lo stadio rimane comunale, quindi del comune di Sciacca. Un paio di mesi fa se non è riuscita la notizia che c'è un milione di euro, quindi è stato da finanziamento un milione di euro per la ristrutturazione dello stadio, quindi in questo speriamo che nel più breve tempo possibile queste somme possano essere impiegate all'interno dello stadio. Cosa serve? Proprio perché è datato, intanto ci vuole una bella manutenzione ordinaria e sorordinaria all'interno dei locali, quello serve dagli spogliatoi magari nuovi, dai bagni fatti con le cose magari che oggi si usano e poi il manto erboso. Il manto erboso è ormai in condizioni pessime, i nostri giocatori hanno infortuni costanti perché ormai l'erba non esiste più fondamentalmente, è terra abbattuta. Però è una delle questioni più onerose, no? Noi spendiamo come società ogni anno moltissimi soldi per il manto erboso, ma alla fine il risultato comunque non lo vediamo lo stesso, non lo vediamo perché si ci gioca, si ci allena, non abbiamo altri impianti. Andrebbe fatta sistematicamente la manutenzione. Lei parlava di una gestione del manto erboso di alcuni locali, un'ipotesi invece di gestione in toto della struttura è stata percorsa e questa è la strada anche per poter poi tenere bene gli impianti, lo dico per lo stadio così come per altre strutture. Io penso che questa società col tempo sia nelle condizioni di gestire uno stadio del genere. Dico col tempo perché essendo comunque ancora una società abbastanza giovane e avendo già svariate spese nella gestione della squadra anche noi abbiamo bisogno di una certa crescita. Però credo che col tempo, questa è una cosa che con la futura amministrazione si può discutere, si può discutere sotto l'aspetto magari nel giro di qualche anno, perché no? Poi si capirà quali sono i presupposti, certamente se si migliora con questo milione di Euro, perché ripeto la manutenzione che noi facciamo poi è costante, quindi comunque le spese ci sono, il Comune interviene in parte, altre cose le facciamo noi. Quindi se c'è una sistemazione totale dell'impianto è una cosa che credo questa società può prendere stretta considerazione. Chiudiamo il capitolo calcio, però le voglio chiedere quali sono, ormai siamo quasi alla fine del campionato, no? Sì, ma... Già penso che abbiate programmato la prossima stagione. Sì, ormai manca, abbiamo l'ultima in casa domenica e poi l'ultima fuori, quindi le ultime due giornate è per... Il progetto si costruisce... Già, noi siamo, proprio domani come ti anticipavo poco fa, prima della trasmissione abbiamo proprio una riunione, ma già stiamo iniziando a programmare il futuro. Lo cambiamo sempre in largo anticipo perché, ripeto, siamo una società molto attenta a molte cose, quindi teniamo quantomeno e puntiamo a fare bene. Il prossimo anno cercheremo di alzare l'asticella, se quest'anno diciamo volevamo una salvezza tranquilla vediamo di raggiungere questi benedetti playoff, però prima di manifestarlo alla città e prima di dire quali sono i nostri obiettivi è giusto, come abbiamo detto finora, che noi capiamo realmente quale sono le somme che abbiamo a disposizione, capiamo quanti sponsor ci possono nuovamente sostenere e da lì poi si costruisce il progetto. Questi due anni di Covid sono stati un disastro sotto tutti i punti di vista perché poi alla fine danneggiate le realtà imprenditoriali viene meno anche il sostegno a tutto, allo sport. Infatti per noi è stata una sorpresa quando quest'anno abbiamo avuto questa miriade di sponsorizzazioni, ma questo ci ha fatto capire che alla fine la città di Sciacca ci tiene alla squadra, ci tiene magari poi il commerciante che fa lo sponsor e viene 5 volte allo stadio su 15 partite in casa, però quelle 5 volte vuole venire ed è questo che alla fine poi unisce un'intera città, quindi se tutti nel nostro piccolo contribuiamo, perché poi la squadra non è mia, io sono il presidente oggi, magari domani non lo sono più, quindi non è di nessuno dei soci presenti lì perché anche loro, chi va, chi viene, dicono società abbastanza aperta in questo senso, è la squadra della città, quindi se tutti riusciamo in qualche modo, chi col biglietto la domenica, chi con una sponsorizzazione, chi con un'erogazione liberale a contribuire, perché no, si possono raggiungere certamente risultati buoni. Lei poco fa ha detto, quando io sono diventato presidente di questa squadra ho fatto un po' una considerazione ancora più complicato che fare l'assessore, ma è realmente convinto soprattutto per quello che lei in un anno alla fine ha potuto constatare, forse si è dimenticato con l'esperienza. No, è un'esperienza diversa, perché mentre l'assessore uno ha le sue deleghe, dico, cerca di fare quel lavoro su quelle deleghe, quando diventi presidente di una società della squadra del tuo paese, alla fine ti senti addosso anche la responsabilità da parte di tutti i cittadini, quindi oltre… Anche perché dopo l'allenatore il presidente è quello preso in linea. Infatti è quello, in questo senso diciamo che le responsabilità sono, non dico maggiori, ma comunque ti caricano di più e comunque poi ci tenevo a fare bene perché questa società comunque lo meritava, è una società, ripeto, fatta veramente da tutte le persone, professionisti e gente che si spende per il calcio e per questa squadra, quindi mi andava di fare bene ed è quello che alla fine siamo riusciti tutti insieme a fare, però ci sono tanti sacrifici, la gestione di una squadra non è semplice, io dico sempre quando guardo tutto quello che ruota attorno alla società, ma credo che parliamo di 300-400 persone, comunque non è una cosa banalissima, parliamo degli ultra che mi vado a ringraziarli perché sono sempre presenti sia dentro che fuori in trasferta, credo che sono venute quasi in tutte le trasferte nostre e quindi loro fanno parte per noi all'interno di questa grande famiglia, ci sono i nostri tifosi, c'è la squadra, ci sono i settori giovanili, c'è lo staff tecnico, lo staff del settore giovanile, c'è una dirigenza e tutte le varie problematiche perché poi ti confronti… Lei si è dimenticato o forse è stata un'esperienza talmente breve che alla fine non l'ha allogurata, perché ricordiamolo, lei è stato stroncato sul nascere, da presidente dell'Unitas lo stanno tenendo in più, in genere funziona al contrario, lo sport si brucia subito, qua è stato nella politica… Diciamo che forse magari non ho avuto l'opportunità in politica, sì un anno e qualche mese alla fine, oltretutto avevo deleghe pure abbastanza complicati, avevo l'epoca urbanistica, avevo i servizi a rete, c'era il Gigi Entiacqua, ricordiamoci che ero costantemente… Sotto pressione… Quella forse era una delle che ho detto che mi è pesata di più in assoluto, come nello stesso tempo avevo il patrimonio, avevo il personale, avevo una miriade di deleghe, però anche lì lo facevo, l'importante è che quando si fa una cosa la si fa con passione, se uno ci crede in quello che fa alla fine poi si sbaglia, nella vita sbagliamo tutti, o mano sbagliare, l'importante è chiedere scusa quando uno lo capisce e andare avanti, sono due esperienze diverse, l'una non esclude l'altra, l'una non è più difficile dell'altra, ma nello stesso tempo hai una città che ti guarda, ripeto nel caso dell'Unitas e Sciacca la città è la sua totalità. Quando fai politica magari guardi più ad una parte o comunque, ripeto alle tue deleghe che poi avevo, non mi interessavo certamente di altre deleghe. Se da lei è stato però tra gli assessori spediti a casa nel giro di un anno, quello che è stato più in silenzio, a meno espresso, quello che ovviamente è stato un po' una doccia fredda per tu, c'è un'aggiunta azzerata, noi non ce la ricordavamo, è stata anche questa una nuova esperienza. Lei è stato però quello che ha scelto la linea del basso profilo, perché? Quando succede una cosa del genere, credo che c'è un problema che dice la migliore parola è quella che non si dice, c'era poco da dire in quel caso. Io non penso che quella... Lei fu tra l'altro quello che si dimese subito, per primo... Sì, quando mi è stato detto... Prima ancora di essere stromesso. Ma per il semplice fatto che non aveva senso che qualcuno mi buttasse fuori da una cosa che oltretutto io stesso mi ero conquistato, quindi preferisco per come sono venuto andarmene in silenzio e ringraziando la città. Ho voluto continuare il silenzio perché comunque ci sono anche altre situazioni personali che era giusto in quel momento, è giusto tuttora non parlarne e comunque diciamo poi la politica va avanti, alle volte come in questo caso. Lei è riuscito a mettere una pietra sopra, possiamo dire così, rispetto ad altri. Mi dispiace, mi dispiace perché penso... Eppure ci sia stato, come ha detto lei, una questione anche di amicizia, di rapporti personali, si è consumato uno strappo con il parlamentare regionale Michele Catanzaro, cioè eravate inseparabili e poi separati. Separati. Questa forse era stata la cosa che mi ha fatto più dolore in assoluto rispetto anche ai rapporti che noi avevamo. E l'altra più grande, diciamo, il più grande dolore in assoluto rispetto anche a questo è stato poi, ripeto, non poter proseguire quello che in qualche modo stavo facendo, perché poi in un anno, in un anno e tre mesi non puoi ancora vedere quello che avevamo iniziato a fare. Eppure cose ne avevamo fatte che poi si sono viste col tempo, però andare a dire l'ho fatta io non aveva nemmeno più senso. Se si decide una coalizione, decide questo, va accettata. Non certamente gioire, non ero felice, non per questo dico i percorsi politici sono completamente differenti a questa amministrazione uscente. Detto ciò, loro hanno continuato per la loro strada, per la nostra. Adesso gli elettori sapranno e diranno chi ha avuto ragione e chi è torto. Lei ha costruito un'alleanza con altri due ex assessori della Giunta Valenti, Filippo Bellanca e Paolo Mandracchia. La lista Sciacca 2022 è presieduta da Irene Pumiglia e, la vostra lista, si dice anche, è l'occasione della vendetta. Nasce così? Ma nemmeno, nasce da tre persone che comunque hanno condiviso un anno e mezzo, se partiamo anche dalla campagna elettorale, insieme. Tre persone che giornalmente stavano dalla mattina alla sera insieme a lavorare per questa città e quindi quando a tutti è capitato la stessa cosa, cioè l'azzeramento, sentendoci è nata questa cosa perché noi vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi è una migliore occasione per metterci insieme e dimostrare che in qualche modo abbiamo le nostre idee, sappiamo portarle fuori, sappiamo fare le cose, perché no? Quindi facciamolo. L'amore è sborciato tra i tre però quando siete stati estromessi, perché prima diciamo che qualche battimento, tre galli in un pollario, un po' si beccavano. Io credo una cosa, siamo al discorso di Pofa, quando ci sono già due persone, magari ci sono anche posizioni diverse, può capitare, si vedono le cose in maniera diversa, quindi non è che ci litigavamo ogni giorno, semplicemente magari poteva capitare come anche con gli accessessori, con il sindaco stesso, che uno la pensava in un modo o in un altro, alla fine però si arrivava sempre alla soluzione che era quella per la nostra città appunto e si andava avanti. Poi ci stava, dico tre galli, possibile anche, però diciamo che attualmente non stiamo avendo di questi problemi, quindi non capisco la motivazione, non credo sia stata questa all'epoca onestamente per l'azzeramento, adesso stiamo invece lavorando in maniera molto organica, fattiva e stiamo facendo bene. Sono passati cinque anni, sembra un'infinità di tempo, tante cose sono successe, voi avete iniziato prima degli altri, proprio perché magari estromessi non impegnati in prima linea a costruire quello che doveva essere il progetto per le amministrative del 2022? Sì, noi abbiamo iniziato parecchio tempo fa. La certezza era la lista degli ex, poi con chi agliarsi è stato un po' più complicato. C'è sempre stata, ma ripeto, per quello che ci siamo detti fino a poco fa, ognuno di noi ha voglia ancora di mettersi in gioco e di dimostrare che le cose le sa fare e le vuole fare per questa città, quindi detto ciò ci siamo subito trovati d'accordo e siamo partiti parecchio tempo fa, anche perché non si può certamente pensare di partire il giorno prima della competizione elettorale, ma alla città bisogna spiegare in qualche modo quello che uno vuole fare. Lo stiamo facendo adesso con il candidato sindaco Ignazio Messina, devo dire che anche lì abbiamo fatto solo due incontri e chiuso immediatamente l'accordo politico, perché quando persone si siedono a torno a tavola e pensano che il bene comune sia uno, alla fine è anche semplice portarlo avanti, quindi su questo immediatamente siamo trovati d'accordo pure con lui, quindi stiamo lavorando e continueremo a farlo. L'approdo a Ignazio Messina la costruzione di questa proposta politica è arrivata in realtà dopo mesi e mesi in cui voi discutevate con il centrodestra, con il quale alcuni di voi avevano poco da spartire, però c'era quel percorso anche nato in consiglio comunale magari negli ultimi tempi, cioè era un'alleanza che non è andata a buon fine, almeno con voi, per quali motivi? Noi abbiamo sempre detto che volevamo dare alla città un progetto civico, era questo quello che c'eravamo prefissati noi quando abbiamo fatto l'associazione 2022 ed era questo che abbiamo manifestato a quel tavolo il primo giorno che c'eravamo seduti, quindi il nostro obiettivo è stato sempre lo stesso anche perché crediamo che all'interno di una città come Sciacca i partiti onestamente non so fino a che punto possono avere un senso, qui ci sono le persone, ci sono dietro ognuno le proprie storie, dico quindi non è che non ci conosciamo perché noi siamo… Ecco ma apposto che gli uomini alla fine sono quelli, c'è il problema è solo la bandierina di partito, considerato che poi alla fine in ognuna delle alleanze che si sta mettendo in campo ci sono pezzi di centrodestra, pezzi di centrosinistra, alla fine ci conosciamo, l'hai detto bene, non è che avere tolto il simbolo e allora perché… Lasciamo i partiti alla politica nazionale, alla politica locale lasciamo… Sì ma perché allora era così importante levare questi simboli, posto che i simboli poi sono rappresentati dalle persone. I simboli io credo che li dobbiamo lasciare alla politica nazionale e regionale. Ma è stata solo una questione di simboli. Sì, solo e semplicemente una questione di simboli, noi non abbiamo posto nessun altro tipo di condizioni, anzi l'altra condizione era, ma per noi credo che era indispensabile, era il minimo, quella di non, che non potevamo discutere certamente con chi fino a oggi sta amministrando, ma non per quello che ci aveva fatto, che comunque certamente influisce, ma per come è ridotta la città. Per noi un'alleanza oggi col PD era una cosa proprio fuori ogni logica, anche se sto vedendo che moltissimi la pensano come noi, quindi il PD infatti sta avendo grossissime difficoltà. Sì, però non ha governato solo il PD, mi riferisco, l'assessore Lino Venezia si è dimesso giusto due giorni prima di siglare l'accordo con Ignazio Messina, adesso è con voi, dico ha governato con il sindaco Valenti, quindi questo discorso con il PD, con la Valentino, ma con tutti quelli che finora hanno governato sì, non è difficile da spiegare all'elettorato? Non è relativo, però io non so nemmeno se intanto poi l'assessore Venezia sia o meno candidato nella lista di appartenenze, non credo che sia insieme per Sciac, quindi questo io non lo saprò, poi vedremo gli amici, e questo di lui non lo so, non ho idea. Il gruppo è quello, è quello che ha governato. Sì, questo magari il gruppo può essere quello, poi vedremo, ripeto, cosa accadrà da qua breve, però onestamente non credo che questo possa essere un problema all'interno di una coalizione nuova come quella di Ignazio Messina, quindi a noi, insieme al candidato sindaco di Ignazio Messina interessa portare del risultato a Sciacca, siamo già veramente al buon punto con il programma, vogliamo presentarla alla città, molti ci dicono che siamo partiti anche lì in largo anticipo, ma noi non pensiamo che siamo partiti in largo anticipo, sono gli altri che sono in netto ritardo, credo che alla città il progetto vada spiegato, vada spiegato anche in tempo, non certamente negli ultimi 20 giorni, ed è quello che stiamo cercando di fare. Una variegata coalizione però mi consentirà e non voglio usare altri termini, Ignazio Messina inizialmente quando ha lanciato la sua candidatura era così, una corsa solitaria, poi a un certo punto la vostra adesione al progetto e poi è stato tutto un susseguirsi, tanto da far dire recentemente a Ignazio Messina, adesso forse è il caso di… Sulla variegata… C'è di tutto, adesso non mi potrà legare… Ma non è che altrove c'è… Da onda, lega… Ma anche altrove, non è che sono messi… Sì, sì, adesso ripartiamo… No, no, questo per far capire che alla fine la politica locale è questa, non c'è… È un progetto che si sposa, non ci sono nei partiti che lasciano il tempo che trovano. Io ricordo coalizioni dove ci sono stati selisti, cioè la scorsa volta eravamo selisti, cioè non è che eravamo meno di quelle che stiamo oggi con Ignazio Messina, anzi, c'è una persona ancora in aggiunta, quindi se qui siamo parecati non oso immaginare cosa era quella dell'altra volta. È un problema che molti pongono di fronte a queste coalizioni così ampie, con forze di diversa estrazione, sia la vostra che anche quella di Matteo Mangio Cavallo, come anche immagino l'altra candidatura che dovrà arrivare raccoglierà pezzi di… E però quello che il cittadino si chiede insieme alla solita storia, partono tutti assieme appassionatamente, poi dopo sei mesi, un anno, cominciano il distinguo e comincia a ognuno l'appartenenza politica. Allora avere tolto i simboli dei partiti, che senso ha quando poi a sei mesi o un anno tutti corrono alla casa madre di appartenenza? Cioè questo è il rischio vostro, come delle altre proposte? Io non credo che noi corriamo questo rischio perché abbiamo intanto grande fiducia in Ignazio Messina, noi crediamo fortemente in lui e crediamo tutti che sia una persona molto autorevole, quindi credo che quello che è successo in passato difficilmente potrà accadere e inoltre aggiungo che proprio per la sua atterevolezza molte cose non accadranno, quindi credendo in questo progetto noi crediamo che possiamo fare bene. Ma stavolta i paletti e gli accordi li avete messi nero sul bianco? No, 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 non abbiamo messo niente nero sul bianco. C'è un attestato di fiducia verso il candidato sindaco Ignazio Messina che noi come lista abbiamo fatto e tutte le altre liste stanno facendo o hanno fatto anche loro, quindi c'è massima fiducia a lui, poi sarà lui a decidere assieme a tutti noi come si sta facendo anche ora, il proseguo. Sentiamo, intanto ritiene che la coalizione si sia fermata a questi o che possa ancora ulteriormente allargarsi? Quali sono le ultime chiusi? No, non mi risulta che attualmente ci siano altri che vogliono entrare, poi dico se qualcuno ancora pensa di poter condividere questo progetto, ripeto, parlare di coalizione magari se ne parlo ora perché siamo in campagna elettorale, poi c'è la condivisione di un progetto che è quello che noi abbiamo, lo valuteremo se è il caso, altrimenti andremo avanti per quelli che attualmente fanno parte all'interno di questa... Un'altra delle questioni che già fa discutere, ma alla fine tante liste e tante forze, chi dovrà andare a fare l'assessore, chi dovrà occupare gli altri posti, perché si pone, è giusto anche che ciascuna lista per l'apporto che dà al candidato sindaco rivendichi una propria rappresentanza. Voi avete già comunque stabilito, chiamiamolo così, delle regole, dei principi? No, a tutto stiamo pensando... In fiducia totale! Ma io non credo che se uno parte in questo modo, lì sì che non duriamo nemmeno sei mesi come coalizione e come gruppo che lavora insieme, invece se tutti insieme cerchiamo di fare le cose per questa città, con un candidato sindaco, torrevole come Messina, forse ci possiamo riuscire. Tutte queste cose, poi quando e se si vince, se ne discuterà, ma non è il momento, attualmente parliamo di programmi, parliamo di quello che dobbiamo fare, ogni tanto ci facciamo la battutina, se si vince già l'indomani, se non la notte stessa ci mettiamo a lavorare, perché comunque c'è moltissimo realmente da fare in questa città che è ridotta... C'è la consapevolezza in questa coalizione di avere una strada un po' più spianata rispetto a... Cioè vi sentite i favoriti? No, onestamente no. C'è un 40% da raggiungere perché si è abbassata adesso la percentuale con la quale si vince al primo giugno? Non possiamo certamente negare che Ignazio Messina è ben voluto, se uno cammina per strada comunque si sente parlare moltissimo di lui e soprattutto bene. Poi, ripeto, il giorno 12 giugno scopriremo chi sarà o meno il vincitore, attualmente a noi interessa lavorare, cercare di fare bene, ma non fino al 12 giugno, soprattutto dopo il giorno 12 giugno se vinciamo. E poi vedremo. In realtà si dice anche, vabbè, Ignazio Messina al momento è il favorito perché è stato il primo, quello che è partito per primo, adesso c'è da capire, mangio a cavallo, quindi... Vabbè, ma giocavallo una settimana. Ma meno, una settimana ancora, con la settimana di Pasqua, poi arriverà almeno un altro candidato, uno, altri due. Quali sono le sue previsioni? Come vede anche i movimenti possibili? Io credo che alla fine ci saranno tre, quattro candidati massimo a sindaco, non credo che si vada in queste elezioni oltre queste candidature. Per il resto, ripeto, Ignazio Messina parte prima, ma non è lui che è partito prima, sono gli altri che stanno perdendo realmente moltissimo tempo. Ma non è stato così anche cinque anni fa, la candidatura della Valenti arrivò... Della Valenti nasce quasi alla fine della campagna elettorale. Non è che da noi ci sbilanciamo molto tempo prima, spettiamo sempre le mosse. E lui è stato bravo, forse Ignazio Messina a partire prima, quindi questo gli va riconosciuto. Se, come dici bene tu, prima si arrivava sempre alla fine e qualcuno pensava e pensa ancora oggi di vedere le mosse che fanno gli altri, invece qua c'è già una coalizione pronta, un gruppo che sta lavorando, è un candidato sindaco che è da tempo che fa veramente, che lavora per questa città. Quindi facciamo i complimenti a lui, poi vedremo la gente cosa penserà. Lei con il PD proprio ormai ha chiuso definitivamente? Non credo che in qualche modo ci possa essere nemmeno un margine di discussione, ma non solo, come dicevamo prima, per gli aspetti personali che poi in politica devono essere messi da parte, figuriamoci, ma con chi ha amministrato questa città in questo modo onestamente non mi va minimamente andarci a discutere, perché se io vengo criticato e mandato a casa perché stavo facendo male, chi è venuto dopo di me è stato un disastro. Lei ha le sue responsabilità, cioè voi cinque anni fa avete detto mai più cinque anni così, voi avete alimentato tante aspettative, alla fine non è questo, cioè che si alimentano talmente tante aspettative che poi è difficile realmente raggiungere gli obiettivi. Io l'altro giorno dicevo in un'intervista, forse è arrivato il momento che questa città parta dal basso, perché veramente non si può, sembra banale dirlo, ma non riusciamo nemmeno più a camminare con le macchine, non riusciamo ad avere un parco giochi per i nostri figli, non riusciamo ad avere un parco, un parco delle terme non ho capito, aperto, chiuso, chiuso, riaperto, non si capisce, non ce n'è un programma completamente dei nuovi, non c'è quello che era la vita sociale di una volta anche all'interno della città stessa, quindi credo che questa città oggi deve in qualche modo ripartire dalle cose essenziali, noi dobbiamo dare la normalità ai nostri cittadini, la normalità la otteniamo intanto iniziando a sistemare le strade, facendo dei parco giochi, facendo dei parchi, pensando alle scuole, sentivo l'altro giorno di nuovo problemi in una scuola, queste cose onestamente… Le ricordo che lei da assessore però mi rispondeva che non c'erano i soldi che l'itere piuttosto lungo… Però le facevamo le cose, io mi ricordo che proprio quando era assessore due scuole proprio sono state fatte, o quantomeno sono state fatte le manutenze ordinarie mentre io era assessore, le cose si devono voler fare, poi sono d'accordo che nessuno ha la bacchetta magica, possiamo arrivare lì e risolvere il problema, lo dice uno che ha fatto l'assessore quindi sai che i conti comunali e comunque la burocrazia poi ha anche i suoi tempi, ma infatti non bisogna illudere nessuno, noi dobbiamo dire ai cittadini semplicemente quello che vogliamo fare, come stanno le cose e quando le faremo, non c'è domani arriviamo e sistemiamo il paese o domani arriviamo e apriamo il ponte Cansalamone, domani arriviamo e ci mettiamo a lavorare per aprire il ponte Cansalamone, capiamo qual è il reale problema, capiamo perché è stato fino ad ora fermo e da lì poi diremo alla città quando… E' un ingegnere, il problema fondamentale, soprattutto in questo momento storico è quello della pianta organica, dell'ufficio tecnico in particolare, noi abbiamo un treno che è quello del PNRR e che però rischiamo di perdere, il nostro comune come tanti altri comuni che non hanno un parco progetti. Io per ora sono perennemente fuori, in giro per i comuni, proprio per il PNRR, questo perché perché ci sono comuni invece che si sono organizzati, esistono i cosiddetti fondi di rotazione, si fanno, i bandi ne stanno scendo ogni 15 giorni e continueranno… Progetti è il momento in cui viene finanziato di tutto… No, è il momento dove si deve lavorare, si deve programmare una città per il nostro… Ma siamo ancora in tempo per dotarci di questo parco progetti, cioè il 13 giugno, messo che si vinca il primo turno, o il 27 giugno, che cosa occorrerà fare? E siamo ancora in tempo per poter attingere poi le diverse risorse. Intanto io spero che l'amministrazione oscente, a questi bandi che però ci sono stati, alcuni già di esti, sono pure scaduti, abbia partecipato. Non lo so, non mi risulta, questo lo vedremo anche in seguito perché ne sono usciti già parecchie, quindi ci sono state parecchie finestre da un mese e mezzo, due mesi fino ad ora. E continueranno ad esserci. Sì, ci dobbiamo riuscire, non è che si deve provare, immediatamente facendo un fondo di rotazione, se c'è da farlo anche con un prestito che si faccia, se c'è in qualche modo da immediatamente partire. Il nostro ufficio lo sappiamo, l'organico è sottodimensionato… Pure con i concorsi che si stanno esplettando… Ma non risolveranno il problema dell'ufficio tecnico perché è veramente ridotto al minimo essenziale come personale. Ci sono sì parecchie persone che, devo dire, continuano a lavorare e qualcosa la possono tranquillamente andare a fare, ma l'unica soluzione che c'è è il fondo di rotazione per fare le progettazioni, il PNRR, ma come per le altre cose. E questo immediatamente sarà una delle prime cose che bisognerà attivarsi. Quali sono le priorità, a suo avviso, anche dal punto di vista non solo delle infrastrutture che sono sempre state il nostro problema, ma noi usciamo anche da una situazione di disastro legata al maltempo del mese di novembre. Ci sono tante località, tante strade, tante zone che necessitano di interventi. È piuttosto complessa la situazione. Si deve agire per priorità? Ha fatto un programma degli interventi? L'altro giorno ero con alcuni amici e discutevamo proprio di questo. Pensate che il ponte si possa aprire domani mattina, pensate di sistemare le strade dopo tre giorni. Io risposto in un modo che mi va di dirlo anche qui. Ci sono delle priorità. Ci sono delle priorità perché la prima cosa... Allora noi dobbiamo capire intanto questa città dove vuole andare a finire. Il nostro punto di forza è il turismo? Perfetto. Il turista deve arrivare qui e trovare intanto una città accogliente. Non può trovare una città piena di transenne, non può trovare una città d'estate senza acqua, non può trovare una città senza parchi, non può trovare una città senza un parco giochi, senza nessun posto dove veramente si può andare a passeggiare serenamente. Quindi le prime cose da fare sono queste. Poi piano piano con una programmazione adeguata, che è quello che stiamo cercando di fare attualmente nel nostro programma, le cose si devono fare, ma come dicevo poc'anzi, si deve partire ahimè dal basso. Questa città deve recuperare moltissimo e ci sarà moltissimo lavoro da fare. L'altro giorno parlavamo dicendo chi vince, chi vince, saranno serissimi. Saranno impegni costanti e forse ancora di più ripeto perché adesso siamo veramente ridotti male, quindi dobbiamo in qualche modo sollevare questa città e ci vuole gente che lavora. Per questo dico parlare anche oggi di assessori è molto riduttivo, perché ci vuole gente che se ne va al Comune a lavorare 12 ore al giorno. Sì, ma lei mi deve far capire tutti e tre gli assessori sarete candidati al Consiglio Comunale nella lista sciacca 20-22. Lo stiamo ancora decidendo con la massima serenità anche noi. Ma con mese sarete? Con mese, ancora il tempo. E poi chi dei tre fa l'assessore e chi conquista più voti? Lo decideremo poi con calma insieme a tutta la lista perché poi non ci siamo solo noi tre, ci sono altri 21 candidati, quindi assieme a loro poi decideremo chi può rappresentare questa lista. E quali sono le esigenze poi di tutta la coalizione? Ripeto, non ci sono precauzioni e nessuno di noi ha avanzato delle pretese, quindi capiremo cosa succederà poi il 12 giugno e da lì con calma decideremo cosa fare e come fare. A proposito di Consiglio Comunale, anche voi avete avvertito questa difficoltà o questa chiamiamola ritrosia da parte delle persone a candidarsi, a mettersi in lista, a mettersi in gioco. C'è questo allontanamento della politica? Vi costa... Io devo dire che onestamente... Che poi alla fine parliamo di 6-7 liste a sostegno di ogni candidatura? Sì, ma come si presentano le liste di 20 candidati che non siano solo nomi e cognomi rispettabilissimi ma da zero voti. Io ricordo che ogni volta quando si leggono le preferenze al Consiglio Comunale a un certo punto si arriva a 0-0-0-0-0. Allora no, io credo, noi onestamente sì, si sta, qualche difficoltà si trova però non stiamo avendo di questi problemi. Voi la lista l'avete giocata? Ma forse perché, come abbiamo detto... Siete partiti prima. Abbiamo spiegato il nostro progetto alle persone, non stiamo riscontrando quantomeno queste difficoltà che in questi giorni se ne sta parlando, diciamo. Il problema è diverso, secondo me si deve in qualche modo... Non è in sé il candidato, uno deve sposare prima il progetto e poi arriva il candidato. Se uno pensa, per questo dico forse si è in netto ritardo, di arrivare alla fine, lì sì che ci sono seri problemi. Anche all'epoca quando è stato Francesca Valenti, come ricordavi bene tu, comunque già una coalizione c'era, comunque determinate condizioni c'erano e qui ancora ci sono gruppi politici che stanno ancora discutendo. Quindi se uno spiega il progetto, lo spiega in maniera giusta, quello che pensa e la gente lo sposa, alla fine il problema non sussiste. Non c'è neanche il timore di un assenzionismo paventato, in realtà suffragato dai dati delle ultime elezioni, anche in comuni vicini, lo abbiamo visto, c'è un forte allontanamento dalla politica, una delusione che va maturando di anno in anno e non è un segnale positivo sicuramente. Questa città scotta pure... Comunque si deve esprimere un'opinione perché altrimenti decidono gli altri per noi, quindi non andare a votare non è mai la scelta... Anzi, è la cosa più sbagliata perché poi quelli che vanno a votare comunque decidono per tutti. Anche se poi mi posso trovare nella difficoltà di non avere un candidato che mi faccia andare a votare è pienamente convinta. Io penso che uno dei problemi intanto di questa competizione sia l'assenza di me ormai da anni pure del Consiglio Comunale. Noi se andiamo un pochettino indietro nel tempo abbiamo avuto il Covid che comunque ha segnato tutti noi e soprattutto chi in qualche modo faceva politica attiva. Dopo il Covid alla fine questa città non ha avuto nemmeno il Consiglio Comunale. Quindi se uno analizza bene le due cose in qualche modo stanno influendo molto. Su questo sono pienamente d'accordo. Il cittadino si è anche scordato chi è il Consigliere Comunale. Non con gli assessori si ricordano. No, in realtà parte anche prima del Covid perché diciamolo, io lo ripetisco sempre da quando non si fanno più le dirette del Consiglio Comunale è anche un constatare l'operato di quelli che abbiamo eletto, un verificare, avere un collegamento e questo era venuto meno prima del Covid. Anche quando lei era assessore. Ancora prima, mi ricordo già non c'era più la diretta. Quindi anche questo ha influito poi alla fine. Poi lo scioglimento del Consiglio Comunale e il cittadino, vabbè non serve. No, ma non solo non serve. C'è stato un vuoto che poi alla fine c'è stata un'amministrazione e niente più dopo. Non c'era, come alla fine il Consigliere fa anche da collante tra le richieste che poi sono quelle che noi abbiamo parlato fino a due minuti fa, della buca, della scerbatura che in questa città sta diventando motivo per fare un comunicato stampa, quando deve essere invece una cosa normalissima. Quindi secondo me c'è proprio stato un distacco, ahimè, questo danneggerà in qualche modo tutti, da parte cittadina alla politica. Ma lì non è certo colpa dell'amministrazione Valenti? No, io non do colpe all'amministrazione Valenti. Lì è stata una scelta che forse ha avuto un effetto boomerangico, però la legge diciamola è completamente sbagliata perché non ha senso andare a casa. La legge quella c'era, quella c'era. Si è adottata una decisione nella consapevolezza di quelle che erano le conseguenze. Hanno deciso all'epoca questa... Quanto sta danneggiando adesso tutte le forze in campo per questa nuova competizione elettorale? Influirà questo? lo toccate con mano? Sì, credo parecchio, impluirà parecchio perché, ripeto, il distacco si percepisce, il consigliere invece quando c'è comunque ti fa molto da collante tra il cittadino, l'amministrazione, la politica stessa. Le stesse interrogazioni. Le stesse interrogazioni. Questo poi, l'interrogazione era sempre... Magari qualcuno esagera, però... Tengono viva l'attenzione. Questo è mancato, questo è mancato, mancano le dirette, manca in qualche modo riavvicinare la gente alla politica, anche perché la gente è stanca poi. È stanca perché negli anni, partendo a livello locale, ma per finire a quello nazionale, diciamo che ci sono state parecchie difficoltà nell'ambito politico, in ogni sua parte, in ogni suo schieramento. Quindi questo non ne faccio, non sono i destra, sinistro, centro. Diciamo che è un distacco che la gente ha e questo è brutto, è brutto perché alla fine poi la politica è quello che in qualche modo rappresenta, è lo specchio, dico sempre io, della città. Ma lei è convinto che a Sciacca ci sarà comunque un forte assenzionismo o poi la campagna elettorale entrerà nel vivo e l'ultimo mese le cose cambieranno? Sciacca è sempre stata? Tra l'altro ricordiamo una città che per le amministrative almeno è sempre andata a votare, io ricordo che ha sempre superato il 65%. Oppure se l'ultimo mese sono sbagliati, al 69 siamo arrivati quasi al 70%. No, no, io mi auguro che questo infatti non avvenga, mi auguro che la gente vada a votare, vada a scegliere i propri rappresentanti e che la gente vada a scegliere il proprio sindaco, perché poi quando uno partecipa alla scelta si sente anche responsabile di tutto quello che in qualche modo può cadere ed è giusto che sia così. Chi rimane a casa, poi ahimè gli altri hanno scelto per lui. Quindi io mi auguro invece che queste elezioni siano partecipate come quelle passate e spero che in qualche modo invece dobbiamo riavvicinare la gente alla buona politica, non alla politica, ma alla buona politica sì. Senta, siamo in conclusione, quindi dopo il 12 giugno forse la ritroveremo assessore, forse consigliere, una certezza l'abbiamo, presidente dell'Unitas Shaka sicuramente. Domani. Concludiamo per come abbiamo iniziato. No, io non lo so dopo il 12 giugno cosa in qualche modo possa accadere. I due impegni potrebbero entrare in conflitto eventualmente, c'è un ruolo più attivo nella politica, potrebbe portarla a fare un passo. Poi lo decideremo anche, saranno dei mesi abbastanza lunghi e faticosi, quindi poi insieme alla società decideremo se è il caso che io resti oppure se qualche altro vorrà prendere il mio posto sarà la società a deciderla. Non credo onestamente che i due impegni possano in qualche modo essere un conflitto, richiedere troppo impegno tale da dovremmo rinunciare ad uno. Non credo, anche perché dalla serie A fino alla terza categoria non sarebbe il primo e nell'ultimo caso ce ne ha centinaia di queste situazioni, quindi su questo non mi preoccupo, ma sono cose che si decideranno sempre tutte insieme, sia con la società e poi a livello politico, si vedrà che anche lì ancora è tutto in divenire. Vedremo cosa succede, grazie intanto per aver partecipato alla trasmissione, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Grazie.